il magico vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale finalmente torniamo ad analizzare 10 partite che giocano in questo weekend per la 22esima giornata di serie a l'ultimo alla fine è andato benissimo perché abbiamo dato tanti consigli positivi perché in tanti ha insegnato e anche qualcuno negli scambi è andato abbastanza bene ragazzi vi ricordo tre cose la prima di registrarvi su fanta lab poi se volete fare la sub di 10 euro per tutto l'anno fanta lab vi aiuta anche all'asta di riparazione fatelo però è importante registrarsi così nelle live come quella che faremo oggi insieme al mio amico fantavirus le domande le potete fare anche lì quindi ovviamente le potete fare sempre in chat ma alcune le prenderemo solo su fanta lab quindi registratevi che è gratis poi se volete soffrire dei vantaggi di fanta lab fatelo con 10 euro per tutto l'anno seconda cosa ieri è uscito un video importante vi porto sette nomi delicati al fanta calcio andatelo a rivedere ve lo lascio qui sopra e terza cosa e poi cominciamo subito in descrizione c'è il link di starks allora in questi tre giorni fino a lunedì che ho avuto la febbre io ho ragionato su una cosa ma non ve lo dico in questo video se vi fidate di me entrate in starks subito e domani vi dico sta cosa che è una cosa pazzesca che ho scoperto contattando i vertici di starks quindi domani farò un annuncio incredibile non ci credevo neanche io quando me l'han detto domani saprete di cosa parlo registratevi deposito di minimo 20 euro ve ne regalano subito 30 però vi dico anche che se volete iniziare a guadagnare bene e a giocare bene al fanta calcio fate un deposito di almeno 200 300 euro ovviamente per chi può ragazzi per chi può ma come avete visto io ho già fatto un per 550 per cento solo di wallet e in più vi faccio vedere prima di cominciare una schermata in cui anche questa settimana primi in classifica se questa giornata conferma il primo posto 650 euro vanno a sommarsi agli altri 1000 che già abbiamo vinto e parliamo di 1700 euro vinti in poco più di due mesi in due mesi e una settimana che sto dentro starks cioè che ho iniziato a giocare a starks e il wallet vi ho detto più 500 per cento non vi dico altro vi dico domani la cosa più interessante che ho scoperto cagliari torino partita in cui non è facile decidere un risultato io ho messo un 1 a 1 allora il toro questa settimana ha riposato mentre per quanto riguarda il cagliari ha perso in quel di frosinone e se non sbaglio già qua la prima chicca abbiamo preso il 3 a 1 per il frosinone altra chicca ma poi ci arriviamo al frosinone reccaio reccaio ragazzi lato cagliari allora io qui ci ho messo solo viola perché? perché gli attaccanti nonostante io dovessi dirvi ragazzi attaccanti buttiamoli dentro sono un po' arrestivo in questa partita perché buongiorno e buongiorno Rodriguez sta facendo bene la fase difensiva il toro la fa alla grande sono anche riposati hanno avuto più giorni per preparare questa partita quindi io ci ho messo solo viola tra quelli offensivi in fase difensiva invece magari un Dossena sempre per un colpo di testa in tutte le partite una la prende e ve l'avevo consigliato anche settimana scorsa e Turati gli ha fatto una parata importante mentre una da fenomeno l'ha fatta su Leonardo Pavoletti che mi sentivo il gol settimana scorsa infatti l'ho messo anche a un listone in cui siamo alti con mio fratello però Turati ha scelto di fare veramente due parate incredibili e ha salvato il risultato chi mi piace altro un nome un po' a sorpresa potrebbe essere Prati lato Torino allora il toro sicuramente ovviamente chi ha magari il Milinkovic Savic che sta facendo bene ormai da diverse giornate lo mette il buongiorno chi ha lo mette Rodriguez è un giocatore invece che chi l'ha preso ha pochissimi crediti perché a quello andava è molto contento perché i sei e mezzo stanno arrivando su Bellanova qui vado a fare un movimento di mani vado a fare un movimento di mani perché Bellanova ex di giornata che sta portando anche diciamo diversi voti buoni andiamo anche a vedere vedete da quando il toro ha cambiato marcia un solo 5 e mezzo diversi 6 e mezzo un 7 giocatore direi anche da modificatore nella seconda parte poi ci metto Ilic che è uno che mi piace un sacco con quei 6 e mezzo 7 qualche assist qualche gol calcio a punizioni è un giocatore importante per questo toro davanti sono un po' indeciso perché anche Zapata Sanabria non è detto portino bonus un po' come Paoletti Petagna poi magari esce una partita 3 a 3 che non mi aspetto e ho sbagliato l'analisi però non sono convinto facciano gol gli attaccanti l'ho messo solo a Duvan Zapata perché secondo me è quello più probabile in questo match che possa andare a bonus tra gli attaccanti guardando anche un po' le statistiche anche Zapata tanti più gol in campionato Sanabria sono solo in campionato in casa Sanabria pure forse neanche un gol in trasferta ecco però qui se devo rischiarne uno rischio Duvan Zapata però ripeto non vedo una partita con 4-5 gol quindi i giocatori offensivi potrebbero essere schierati in caso di necessità mentre se ho delle alternative valuto valuto bene anche se il Cagliari è una squadra che di gol ne va a subire anche in casa Atalanta Udinese io qua ci ho messo 3-1 io vedo un Udinese in netta ripresa anche con il Milan ha fatto bene ma non benissimo perché poi alla fine non porta a casa nessun punto però fino quasi al 90 passa esimo stava portando a casa 3 punti però poi basta poco per andare leggermente in confusione e non portare punti a casa l'Atalanta la vedo nettamente superiore hanno riposato ed è una squadra che soprattutto in casa segna e subisce poco in difesa ci sono diversi nomi che si possono andare a schierare con la Sina c'è quello che dici mi dà modificatore da Scalvini delusione quest'anno però qualche non dico assai ma due gol vuol farli di testa questo è uno che di testa potrebbe fare 4-5 gol l'anno forse deve crederci un po' di più è vero in qualche occasione è stato anche sfortunato però mi aspetto un giro di ritorno migliore da parte di Scalvini Carnesec in porta non l'ho citato è un portiere che se ce l'ho e ho il mod soprattutto lo metto assolutamente mi piace Olmo come scommessina lo stesso Ruggeri si può andare a mettere ecco dell'Atalanta sono in tanti che possono essere schierati però nel centro cap è quello che mi intriga il centro cap è quello che mi intriga di più perché Ederson sta facendo benissimo o gol o assist o prestazioni incredibili Coppemainers è una certezza si mette sempre quindi non l'ho neanche menzionato De Ketelare è in netta crescita ed è uno che se ora ho al fantacalcio lo vado a mettere senza neanche pensarci più di tanto e Pasalic bisognerà vedere se gioca perché io credo che alla fine uno Scamacca partirà dal primo perché bisogna recuperarlo quindi mi aspetto Scamacca dal primo e se Scamacca gioca dal primo stavolta segna diciamo che negli ultimi reel che ho fatto quelli quattro giocatori da andare a schierare ne abbiamo presi parecchi due settimane fa erano Politano che non segnava da e Orsolini nell'ultimo è il Ciappita Reteghi quindi fate attenzione magari ci metto Scamacca se gioca quindi fate attenzione se metto Scamacca in quei video andatelo a mettere che vi porto un più tre sicuro lato Udinese allora l'Udinese dietro a me non convince perché prendono una montagna di gola ogni partita andiamo a vedere le ultime vabbè tre li ha presi dal Milan due dalla Viola due dalla Lazio l'unica che non ha preso gol il 3-0 contro il Bologna quindi è una squadra che per me due o tre golli prende facili dei difensori l'unico che si può schierare sempre è chi ha il motorino cioè Bosele perché ha uno scatto che a volte davvero sembra uno con un motorino al posto dei piedi perché guardate l'azione che fa su Teo Hernandez e non stiamo parlando di uno lento su Teo Hernandez che ha preso due metri su quattro poi centrocampo partiamo col primo Lovric perché quello sopra non lo nomino neanche Lovric è un giocatore che si può schierare settimana si può rischiare anche il voto diciamo il votaccio in quelli dell'Udinese perché finisse 3-1 magari se non fai assist o non fai gol è probabile che ti prendano un voto negativo però io se ho i vari Lovric i vari Pereira i vari Samaric faccio fatica a non buttarli dentro però se devo sceglierne uno tra questi tre dico Pereira se recupera e poi davanti ci ho messo la stesellina sul Lucca perché magari in una partita in cui è complicata un po' per l'Udinese e Lucca se ne esce sempre con un assist con un gol una sponda qualcosa di che aiuta la squadra e magari in su 6-6 e mezzo più assist o più gol ce lo porta a casa vi ricordo di lasciare un bel like che oggi non ve l'ho detto neanche una volta e di iscrivervi al canale ragazzi perché stanno per arrivare contenuti importanti in tantissimi mi avete chiesto ricosta ma perché non hai non hai portato poi il video sulle sulle fasce per gli scambi ragazzi tre giorni sono stato a letto con la febbre doveva uscire lunedì perché ho detto io tra sabato e domenica quando c'è un'ora tra una partita e un'altra mi metto là e lo finisco perché già lo avevo iniziato è a buon punto e il problema è che poi ieri ero pieno di lavoro da fare delle live tra fantacalcio tv sul mio canale della piattaforma viola ah sulla piattaforma viola ragazzi se avete amazon prime venite a farvi la sub gratis e usufruite tutti i vantaggi anche perché ci sono tanti contenuti diciamo su fantalab per chi è per chi è abbonato al canale quindi anche solo con una semplice sub su twitch potete usufruire di tutto il mio lavoro juventus e epoli io qua ci ho messo un 2 a 0 non ho citato forse tanto i risultati esatti allora io vedo una juve sicuramente che andrà a vincere questa partita ero indeciso tra due risultati sono sincero 2 a 0 2 a 1 ecco ho scelto il 2 a 0 scelto in porta si può andare a mettere assolutamente danilo bremer gatti cambiaso sono difensori che ti portano sempre la sufficienza ti portano a giro dei bonus cambiaso o più per gli assist bremer grande incornata all'ultimo ecco sono tutti giocatori che andrebbero messi poi però arrivo al centrocampo è il nome 1 è uno solo ragazzi che si deve mettere stasettimana e cavolo lo dobbiamo beccare questa è la giornata che segna Weston McKennie 0 gol finora per lui grazie anche a quel grandissimo di Vlaovic che gliel'ha levato da un centimetro dalla porta c'è chi dice che forse nel pallone neanche entrava però però McKennie ve l'ho detto anche all'ultima sta flirtando col gol è veramente a livelli a livelli dei top campioni della serie A e quindi ora McKennie segnerà e voi lo dovete mettere sta giornata anzi magari se avete McKennie al fantacalcio e pensate di schierarlo ditemelo nei commenti anzi nei commenti mettetemi tutti i nomi che volete che segnino questa settimana ovviamente non mi mettete Dujan Vlaovic perché quello magari segna uguale mettetemi nomi di giocatori che sono due tre quattro cinque giornate che non segnano mettetemelo nei commenti e vediamo se li sblocchiamo gli altri di centrocampo devo dire non mi fanno impazzire a me Miretti non piace mi dispiace diciamo non dire qualcosa di positivo su un giovane però lo vedo un giocatore che corre tanto ma non vedo la qualità a me piace la qualità Kostic sono un po' deluso da lui deve fare di più secondo me Filippo Kostic poi l'ho messo la stellina su il Diz perché come talento sicuramente è un giocatore di quelli che ti fa innamorare perché si vede che questo giocatore allora io ho placato un po' gli animi su Fanta Calcio TV dicendo c'è anche Chiesa nel senso che non è che ora c'è il Diz Chiesa non lo calcoliamo più però il Diz è un giocatore che esploderà è un giocatore che farà benissimo cioè io non mi stupirei se il prossimo anno la Juve vendesse un Chiesa e giocasse con il Diz non dico fisso titolare magari anche con delle alternative o magari anche con un Suley in cui a volte gioca Suley titolare a volte gioca il Diz ma ormai credo che il suo percorso di giocatore importante sia partito e ha solo ampi margini di miglioramento poi su Vlaovic nulla da dire qui diciamo i Sassolini me li sono tolti tutti sono contentissimo perché l'ho preso in tutti i listoni ho cercato di farlo prendere a tutti i ragazzi poi dipende dai cambi che avevano però alla maggior parte l'ha tutti buntato dentro e devo dire ora che dei ragazzi che seguo tantissimi stanno al primo posto sono molto contento perché alcuni di loro sono ormai due anni che li seguo e alcuni già avevano vinto l'anno scorso quindi molto molto contento per i risultati che stiamo tenendo anche a listone lato Empoli qui vado molto breve ragazzi Tolto Zurkowski che alla fine è un giocatore che in due giornate si è subito consacrato sarà sicuramente la stella insieme a Sule del mercato della nostra asta di riparazione secondo me rischieremo anche di scottarci però all'asta di riparazione c'è quello libero e quindi uno deve farsi i conti bene su chi comprare però un giocatore vabbè probabilmente ancora lo avrete poco o niente perché se non avete fatto Aste alla Katsum prima non potete avere Zurkowski e poi davanti come scommessa proprio non so chi mettere c'è quel Cambiaghi che ogni giornata fa qualcosa di buono anche all'ultima fa tante cose buone gli danno giustamente direi anche un 7 contro il Monza però non segna però non segna gli indici di schierabilità venerdì ve li porto i miei non questi non questi Milan Bologna Milan Bologna ci ho messo 2 a 1 anche qui settimana non è facile dire risultati esatti però questo devo dire che potrebbe essere un risultato esatto intrigante allora in difesa in difesa faccio un elogio subito a Gabbia Gabbia è un giocatore che ho criticato in passato perché non mi è mai piaciuto sbagliava sempre troppo l'ho ritrovato all'ultima che mi è piaciuto contro l'Udinese sì il Milan ha preso due gol però credo che lui non abbia nessuna colpa o comunque in maniera marginale ed ha fatto alcuni interventi decisivi e neanche facili contro l'Udinese se il Milan ha vinto mi spingo a dire c'è merito anche in Gabbia perché se avesse fatto l'Udinese il 3 a 1 il Milan con la partita l'avrebbe persa anche giustamente direi poi alla fine se lui non avesse fatto così bene e questo mi ha stupito Teo Hernandez si mette sì assolutamente sempre ma qui non servo io centrocampo centrocampo loft to cheek settimana scorsa vi ho detto Udinese Milan mi aspetto loft to cheek un gol da inserimento nel reel e così è stato inserimento di loft to cheek assist lui secondo palo 0 a 1 Milan stasettimana deve segnare Pulisic se non segna Pulisic davvero vado a Milano perché deve fare gol ce l'ho in tutti gli stoni e ora basta devo dire che un po' non mi piace non mi piace il modo in cui stanno dando i voti cioè c'è stato un momento della partita in cui lui prendeva palla saltava l'uomo poi magari non avrà fatto la sua miglior partita però non era una prestazione da 5 e mezzo cioè almeno il 6 io personalmente io l'avrei dato e ha fatto mi pare due azioni interessanti Pulisic quindi mi aspetto almeno un assist da Christian Pulisic poi ovviamente ragazzi chi ha Giru lo mette anche se anche se in casa non è sempre cioè io Giru lo preferisco in trasferta perché va sempre meglio in trasferta che in casa però ora tocca il Rafa Leao ci ha rotto un po' le palle perché ok la prestazione alla fine la porta anche a casa magari con le sue sgroppate però non calcia in porta non riesce a capire perché non si accentra quasi mai per calciare in porta e quando lo fa magari spacca un piccione quindi vogliamo un Rafa Leao che salti l'uomo faccia assist faccia gol e ci faccia tornare a godere perché l'abbiamo pagato un sacco quindi mi aspetto un pronto riscatto da Leao in una partita importante perché questa è una partita difficile il Bologna è vero che in un momento non facile però il Bologna ha riposato il Milan no poi è vero che alla fine passano tanti giorni quindi però la riesci a preparare meglio se hai alcune situazioni complicate le vai ad aggiustare ecco Tiago Motta poi è uno che sa porre rimedio a cui piace lavorare quindi non dico che il Bologna è avvantaggiato perché ripeto alla fine ci sono tanti giorni però però sicuramente è una partita difficile al Bologna mancherà Poche squalificato sicuramente dietro deve deve fare bene perché Giroud è uno di quelli a cui non puoi dare spazio e lì dovranno fare bene Beuchema e Calafiori Calafiori che viene diciamo l'ultima non ha giocato ma quella prima ancora aveva fatto male una partita in cui non è riuscito a far vedere tutto quello che sa fare però sicuramente è una partita questa in cui vuole tornare ad essere il migliore del Bologna in cui in tante partite è riuscito a farlo vedere nel centrocampo poi Calafiori mi piace anche per quella sua propensione anche se credo sia proprio un dettame tattico di Tiago Motta che lo fa spingere a impostare a lanciarsi davanti centrocampo quello a cui ho messo la stellina metto la stellina ragazzi più che altro perché è una partita difficile anche per il Bologna è quello di Orsolini è una partita in cui lui può far bene perché magari Ternandez da quel lato concede Ternandez anche nell'ultima contro l'Udinese si è un po' impasturato lì insieme non ricordo con chi fosse e poi hanno lasciato quel pallone là a Toven che aveva fatto una giocata che non ha capito manco lui perché si è perso un po' il pallone però è andato tanto bene che poi scarica un sinistro e fa e fa gol e Orsolini potrebbe mettere in difficoltà Matteo quindi lo vado a mettere per dire magari chi ha un centrocampo importante pensa Orsolini lo panco no lo dovete mettere anche Ferguson è schierabile perché alla fine è uno sempre da voto è uno che con i suoi inserimenti potrebbe mettere in difficoltà il Milan e quindi è un altro che si deve andare a mettere davanti il Zirze qui è un giocatore talmente forte che si può schierare sempre però dipende dalle alternative anche lo stesso Orsolini Ferguson dipende da chi abbiamo quindi in teoria sono tutti e tre che si possono mettere al fantacalcio però dipende dalle alternative e poi vi dirò magari anche qualcuno con cui pancherei Zirze Retechi stavo nominando Retechi perché poi veniva Genoa Lecce ecco Genoa Lecce è una partita in cui non vedo tantissimi gol è una partita in cui ho messo in 1-0 era in dubbio tra 1-0 2-0 ecco allora lato Genoa Martino si porta secondo me si può mettere il Lecce non è una squadra che fa tantissimi gol anche se spesso in trasferta qualche golletto lo porta al referto non viene da un buon momento il Lecce andiamo anche qui sopra un po' a vedere beh qui aveva perso 2-0 con l'Inter 1-0 davanti e ci può stare poi in 1-1 in casa il Cagliari qui ci stava meno qui dovevano vincere l'1-0 in casa della Lazio e lo 0-3 pesante contro la Juve è vero anche però che erano tutte partite non proprio semplici sulla carta a parte Lecce Cagliari allora lato Genoa quello che mi intriga sta settimana è Vasquez non so perché ma Vasquez mi intriga potrebbe arrivare un gol ignorante da Vasquez poi non dite che non ve l'ho detto non lo so ovviamente questo ragazzi se uno prendesse il gol di Vasquez meriterebbe un monumento un monumento in centro centrocampo andiamo dove i nomi i nomi sono succosi e qui ovviamente magari dice chi ha malinoschi che faccio lo metto si lo puoi mettere è vero che gioca magari mezzala ha meno possibilità di andare a bonus Strotman all'ultima devo dire ha fatto una partita intelligente mi è piaciuto non so quanto gli è andato non ho guardato voglio guardare quanto è andato a Strotman all'ultima 6 e mezzo secondo me è meritato è meritato ovvio chi ha Gudumunson lo mette l'ho messo così perché non avevo grandi alternative quindi ho detto vabbè Gudumunson è un consiglio banale ma lo mettiamo poi c'è quel Morten Torsby occhio 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 a Morten Torsby occhio perché questo torna gioca perché tra squalifiche e quant'altro e lui di testa è molto forte e qui qui ci può essere un gol ignorantissimo di Morten Torsby fate attenzione e poi andiamo sul ciapita del Retechi questa settimana dopo 12 minuti io ho visto tutte le partite dal telefonino a letto quando ha segnato il ciapita ragazzi mi è venuto duro lo dico così brutalmente mi ha fatto godere come un maiale perché l'ho consigliato a tutti di andarlo a prendere di schierarlo l'ho schierato anch'io in tutti i fanta ho urlato che mia moglie è arrivata ma che stai male no no ha segnato il ciapita Retechi mi voleva menare mia moglie quindi però un'altra cosa molto interessante di Retechi è quel litigio con Gudunso lì mi è piaciuto un sacco anche lì mi sono sentito più che un recosta quasi un rock un roccuzzo diciamo lì mi sono mi sono piaciuti entrambi entrambi con la voglia di prendersi quella palla buttarla dentro ed Retechi lo metto anche stasettimana sono sicuro che magari stasettimana è più difficile è più difficile della scorsa però Retechi può segnare contro chiunque e da ora in poi io io l'ho sempre schierato però fino alla trentottesima giornata finché Retechi gioca io lo metto sempre lato Lecce allora lato Lecce devo dire la verità me ne piacciono pochi vado subito al dunque in difesa nulla centrocampo qualcosa di interessante c'è è sempre lui Remy Uden lui si può andare a mettere quindi magari uscisse un gol del Lecce me lo aspetto o da Uden o da Alquist non ce ne sono altro quindi qua vado velocemente ma vi ricordo di lasciare un cavolo di like ragazzi i like non si pagano i like sono gratis lasciamoli lasciamoli che mi aiutate tanto e passiamo a Monza Sassuolo qui ragazzi i giocatori offensivi vanno messi i giocatori offensivi vanno messi perché questa è una partita in cui usciranno tantissimi gol poi magari esce uno 0 a 0 ma vaffanculo io dico che escono tanti gol tanti gol perché il Monza è in una condizione che deve tornare a fare punti e deve tornare a fare gol perché ora 3 a 0 con l'Empoli 1 a 5 con l'Inter 2 a 3 con il Frosinone i gol nelle ultime nelle ultime tre spasso siamo a 10 siamo a 10 ragazzi non non pochi e quindi mi aspetto che li faccio e li subisco per questo ho messo un risultato importante difesa allora sicuramente quello che mi sta deludendo in chiave bonus è Danilone D'Ambrosio cioè cavolo questo era uno che arrivava al Monza con oltre 20 gol in Serie A nonostante all'Inter giocasse poco giocasse anche magari presenze di pochi minuti però li segnava sempre entrava boom delle volte decideva anche le partite e quindi mi aspetto qualcosa in più in questo giro di torno da parte di D'Ambrosio centrocampo qui ci ho messo colpani perché qui gli do l'ultima chance e ora si deve svegliare un conto è dire 3 4 5 dalla dodicesima alla ventunesima sono 9 giornate e ora sono potante nel gol nel assist voglio il gol di colpani quindi Flaco o batti ora un colpo o dalla prossima rischi anche tu e poi Pessina ragazzi Rigori quella è una skill importante in questo match e poi la stellina su Dani Mota Carvaglio perché è uno anche a Empoli tra i meno peggio sicuramente c'è lui su Colombo non so neanche se giocherà ragazzi non so neanche se giocherà quindi magari nel video di venerdì andiamo sul terzo se gioca Valentin Carboni Zerbin Colombo vi dirò la mia lato lato Sassuolo qui ragazzi ho messo tre nomi tra i consigliati tre scommesse perché prevedo una partita con tanti gol di solito ne metto due e due e quindi ci ho messo Torsved come bella scommessa di centrocampo Berardi perché deve tornare al gol un altro che ora è qualche partita che non segna che non segna Mimmo andiamo a vedere l'ultimo gli ultimi due sono alla sedicesima giornata quindi anche qui dobbiamo andare a risbloccare Mimmo Berardi e poi Pinamonti perché alla fine lui il suo diciamo riesce a farlo a farlo sempre tra gli sconsigliati trovate un nome qui un po' si gioca e quindi l'ho voluto mettere il mio amico tre soldi vorrei vorrei se qualcuno di voi ha avuto il fegato di comprare il maestro tre soldi a scrivermelo nei commenti voglio vedere se c'è qualcuno di voi Verona Frosinone io vado diretto vedo favorito il Verona ma tu sei pazzo questi vendono a tutti il Frosinone viene da un 3 a 1 e tu dici che vince il Verona si a me il Verona a Roma è piaciuto ora voi mi prenderete per pazzo però secondo me il Verona ha fatto una gran partita qui c'è un errorino perché mio compare qui non può essere non può essere tra gli sconsigliati allora lato Verona sicuramente Foloruscio ha fatto una buona partita quasi due gol per lui uno annullato veramente per uno annulla nel centrocampo c'è quel Suslov che a me fa gola non vi ho fatto diciamo non vi tengo nascosto il fatto che sarà uno di quelli che proverò a prendere in tutti i miei Fanta certo una volta che lo dico sono un po' un coglione perché poi tutti gli abbonati non me lo lasciano e magari neanche già a quelli di youtuber so che andrà a un prezzo alto perché piace a tanti youtuber e quindi però è un giocatore che è uno di quelli che attizza i Suslov Suslov attizza Lazovic non so che fine abbia fatto perché non porta più bonus sto ragazzo qui è un giocatore di quelli che vi dico lo svincolano in tanti e se voi dovete occupare uno slot ma un credito buttate buttate magari farà schifo come il giro d'andata ma magari no ma magari no Duda giocatore che alla fine il suo lo fa sempre è un messo anche di Uric da pazzo sperando non calci più un rigore perché non è roba sua però lo metto per un colpo di testa dietro il Frosinone concede sempre il Frosinone concede sempre è uno forte di testa come Diuric se gli danno mezza palla il gol glielo fa basti guardare quei pochi minuti in cui il Cagliari all'ultimo ha pressato il Frosinone colpo di testa di Dostenà prima paratone di Durati colpo di testa di Pavoletti fenomeno Durati però poi alla fine non sempre Durati fa il fenomeno e su me Diuric può segnare in questa giornata Lato Frosinone Zortè in difesa è l'unico che andrà a schierare e quando dico unico solo lui centrocampo ci sono due nomi che si potrebbero andare a mettere uno sicuramente è Mazzitelli perché è un giocatore di quelli che avevamo portato ragazzi a un credito prendetelo perché è un giocatore che i golli sa fare ovvio ragazzi non mi aspettavo un rendimento tanto buono perché parliamo di un giocatore che ha fatto tre gol ma è mancato anche quante giornate cinque se partite non c'è stato per infortunio e il suo rendimento è stato un rendimento importante perché tre gol magari te li aspetti da uno che paghi tanto non da uno che paghi un credito ed essendo che non è neanche finita la stagione ancora siamo a metà stagione e poi Renier può essere una partita in cui un nome come il suo ritorna davanti solo sulle Caio Giorgia questa Caio l'abbiamo preso però non so se lo rimetterai questa settimana altra cosa faccio un breve sul frosinone io questi non li capisco cioè magari sono ignorante io cioè stanno comprando ancora attaccanti ma in quanti giocano davanti in questo frosinone di Francesco cioè io rimango rimango basito cioè rimango basito hanno preso anche Dembasec cioè hanno acquistato altri due tre elementi sempre davanti ma penso spero che qualcuno se ne vada se no veramente sarà un terno all'otto per capire chi cavolo gioca davanti perché poi un posto un posto è di sulè e direi anche meritatamente poi restano due posti per dieci persone boh Lazio-Napoli a qui era indeciso il risultato avevo pensato 1-1 poi ho detto no ma forse esce 2-1 può uscire 1-2 alla fine ho lasciato 2-1 questo su questo risultato sono molto indeciso potrebbe uscire un gol ecco un gol potrebbe uscire quindi un risultato in cui entrambe le squadre vanno vanno a referto dietro quello che si può mettere secondo me è Romagnoli sugli altri faccio più fatica anche se Patrick devo dire non sta facendo male centrocampo Luis Alberto e Felipe Anderson in questa settimana io li andrei a mettere poi ovvio se magari è un centrocampo con partite più semplici allora si può andare anche a preferire qualcun altro però soprattutto Luis Alberto da lui mi aspetto un bonus o gol o assist dal mago in questa partita me lo aspetto e mi aspetto anche che un Isaksen possa far bene un Isaksen possa far bene questa la definirei una partita degli esclusi perché non ci sarà Osimene non ci sarà Kvaraschelia non ci sarà il Ciro Immobile squalificato veramente avremo delle assenze direi importante non ci sarà Simeone il sostituto naturale direi di Osimene quindi dovrà giocare per forza di cose Jack Raspadori lato Napoli Di Lorenzo l'ho visto in crescita non mi sconfinfera più di tanto quando fa il braccetto però Ostigard ha fatto bene in Coppa in Supercoppa Ostigard ha fatto bene tutta la difesa del Napoli in 10 lì alla fine gli è scappato con Lautaro e hanno preso gol però secondo me nonostante giocassero con la squadra più forte del campionato e quant'altro hanno difeso bene ho visto un Napoli migliore rispetto a quello che ci aveva fatto vedere e Di Lorenzo dipende un po' dalla posizione in campo però è quello che mi piace più di tutti da andare a mettere nel centro campo magari Chiappolitano lo mette lo mette assolutamente è un giocatore che ora ha concorrenza perché l'arrivo di Ngong sicuramente gli potrebbe togliere un po' di minutaggio però è un giocatore che si può scambiare però dipende per chi non lo vado a regalarlo ecco su Raspadori ci ho messo la stellina è vero che a me non fa impazzire vederlo punta però questa settimana deve giocare per forza lì perché non ha soluzioni però mi aspetto una prova d'orgoglio perché le ultime non ha non ha giocato nonostante l'assenza di Osimen diciamo non è partito diolare è partito diolare Simeone da lui mi aspetto quella voglia di spaccare il mondo visto che questa volta deve giocare per forza e quindi voglio voglio vedere una reazione da parte di Raspadori e poi c'è Ngong e poi c'è Ngong e questa settimana su me potrebbe anche giocare visto tutte queste assenze del del Napoli vi ricordo un like e di iscrivervi al canale ragazzi anche perché oggi ore 17 sarò in live qui con il mio amico Fantavirus per parlare di Fantascambi per parlare di Fantascambi se avete domande da farci faremo circa un'oretta qui sul mio canale poi un'oretta sul suo quindi fino intorno alle ore 19 saremo in live due ore per voi Fiorentina Inter allora questo è un match importante sicuramente vedo favorita l'Inter l'Inter la vedo sempre favorita è una squadra che gioca bene è una squadra che è difficile anche da mettere in difficoltà lato Fiorentina però è una squadra che gioca bene a volte non porta a casa il risultato è vero però giocano bene se magari Iconè montasse gli scarpini meglio e tirasse anche decisamente in porta in una maniera da serie A ecco magari la Fiorentina farebbe risultati anche migliori difesa allora non non mi entusiasmano contro l'Inter anche lo stesso Martinez Quarta perché dico cavolo dovrà vedersela davanti con Turam con Martinez però è l'unico forse anche insieme a Milenkovic che magari sui piazzati potrebbe potrebbe far bene di testa quindi però è un rischio troppo alto che io non vorrei corrermi non vorrei corrermi e quindi non li ho messi neanche tra le scommesse centro campo Jack Bonaventura spesso ha fatto male all'Inter quindi un po' per la cabala un po' perché Jack Bonaventura perché devo dire che in tanti siete miscredenti su Bonaventura cioè avete preso sto giocatore al 3% 6 gol è un giocatore fantastico anche con l'Udinese non segna spacca un palo perché ora la volete dare via cioè io quando nelle live in tutte le live mi arrivano almeno 3-4 che mi dicono ma io Bonaventura la voglio dar via io gli dico why ma perché se poi fai un upgrade ma chi ti dà Gudmunds ma chi ti dà Cialanolu quindi per quanti nomi scambiereste Bonaventura per Pulisic ci può stare ok ma per quanti altri voi e vabbè poi davanti Nico Gonzalez non sono sicuro che torni dal primo minuto però il giocatore che sono indeciso se metterlo titolare nel senso se lo ha al Fanta è Beltran perché è un attaccante che a me piace se gli arriva mezza palla golle anche in un momento in cui la butta sempre dentro si potrebbe schierare se le alternative magari non sono granché lato Inter c'è poco da dire qui chi si ha si può sempre mettere qui dipenderà anche tanto dall'Inter perché l'Inter se approccia la partita come ne ha approcciato tante quest'anno in cui va a prenderti alto ti pressa è difficile è difficile per l'avversario però ci sono ci sono due però sta settimana manca Barella però c'è Frattesi che alla fine ti dà meno in fase di copertura però Frattesi è uno che ti dà un un livello altissimo in fase offensiva e poi manca Cialanolu ecco quello è l'unico punto interrogativo mio la mancanza di Akan Cialanolu e lì lì si vedrà anche quanto conta Cialanolu e l'Inter che per me vale veramente tanto dietro per me sono tutti schierabili ovvio che magari chi ha Di Marco chi ha Danfris altra cosa ragazzi chi ha Danfris ma perché volete cacciarlo Danfris non è più un titolare chi è titolare il minonno cioè Darmian sì Darmian giocherà magari in una partita difficile come contro il Napoli è normale anche che Inzaghi si affidi a Darmian piuttosto che a Danfris perché fa la doppia fase perché gli dà più garanzia perché Danfris veniva anche da un infortunio che ancora non è al 100% però ho visto scambi che mi avete proposto ma lo do tizio per Danfris ragazzi non scherziamo non scherziamo veramente centrocampo e non potevano mettere la stellina sul nostro Daviduccio Frattesi qui banalissimo scontatissimo frego il cavolo Frattesi si mette poi davanti Turam perché diciamo consigli anche qui banale ma dell'Inter ragazzi sono quasi tutti banali consigli andiamo su quelli non banali Salernitana Roma ragazzi vi ricordo che domani vi dico una cosa incredibile che non ci credo ancora neanche io su Starks registratevi dal link in descrizione con 20 euro di deposito ve ne regalano già 30 ma depositate di più fidatevi di me e domani vi dico il perché domani vi dico una cosa incredibile allora Salernitana un altro mistero che io non capisco Sabatini è un grande direttore sportivo su quello non ho dubbi però però c'è un però solo c'è un solo però Sabatini hai visto che difesa che tieni cioè hai Ghiomber che non lo ecco 4 e mezzo mi fa schifo a vederlo ragazzi scusate gli do uno e lo metto fra gli sconsigliati ecco scusate c'hai Ghiomber giochi con Lovato che tolta l'esperienza con Juric a Verona mamma mia ora invece di comprare gli attaccanti ok mi metti gli attaccanti ma prima di tutto pensa a sta cavolo di difesa che prende due gol a partita e spesso non per colpa di Inzaghi che sta in panchina ma se Lovato va col braccio così che cacchio può fare Inzaghi che gli dice cioè ragazzi lì se Lovato esce Mollo su Badel che ti deve fare Inzaghi i ragazzi servono due difensori centrali e forti e forti quello che mi intriga è Zanoli Zanoli parliamo veramente di un giocatore interessantissimo che già avevamo preso alla Sampdoria vi ricordate quando Zanoli è un giocatore interessantissimo anche alla Salernitana io sono convinto che Sabatini la squadra la rifà e la rifà bene e quindi voglio credere che riuscirà a farlo e poi come sempre i primi di febbraio vi porto tutto il recappone del mercato e vi dico tutti i giocatori che mi piacciono che andrei a prenderli poi qualcuno non esce ma tanti poi escono Totò Candreva Candreva l'ammazza Roma lo spero anche perché l'ho preso questa settimana a listone in cui c'erano i sei politici ho preso Candreva mi ha spaccato una traversa mi ha fatto torlare ma non ha segnato c'è un A è uno che si può mettere anche contro la Roma sugli altri faccio più fatica faccio più fatica lato Roma allora io della Roma ho visto una Roma derossiana diciamo così per un po' di minuti e poi gli è venuto un po' e poi l'ho vista un po' diventare di nuovo muriniana con il passaggio magari di un Zaleschi di nuovo a che l'avevo visto trequartista che ho detto io cavolo finalmente gioca nel suo ruolo sto giovane che era forte e ora adattato in un ruolo non suo poi ritornato lì paura di perdere il Verona non dico meritava di pareggiare perché però rigore sbagliato gol annullati la Roma ha rischiato tanto chi ho visto bene Lollo Pellegrini mi dispiace per chi non mi seguiva o per chi si è perso i video per chi magari se ne vede uno ogni tanto Pellegrini ora lo prendo Pellegrini e ora dovete uscire i cash se avevate visto il video di due tre settimane fa prima ancora che arrivasse De Rossi Pellegrini era proprio fra quelli da andare a prendere in quel momento perché aveva switchato e ha fatto vedere qualcosa di diverso anche se poi magari non sempre portava i bonus e poi c'è Bove secondo me Bove è uno di quei giovani veramente forti che se la Roma fa una squadra che gioca a calcio questo può essere un giocatore interessantissimo anche in chiave fantacalcio è il Sharawin giocatore che va messo assolutamente va messo assolutamente se gioca perché è uno di quelli forse l'unico che dà una soluzione diversa alla Roma che attacca la profondità cosa che non facevano Di Bala per ovvi motivi e anche Lukaku che anche se spesso lui in carriera riusciva a farlo magari più con Conte a volte difendeva la palla a volte andava e in progressione riusciva anche a far bene però in Roma Verona quello che l'ha fatto sempre continuamente era il Sharawin davanti è ovvio se c'è Di Bala che gioca se c'è Luca che giocano si mettono assolutamente ma qui non serve Regosta ragazzi vi ricordo gli appuntamenti oggi ore 17 live sul mio canale ore 18 live sul canale di Simone fantavirus fantascambi domande qualsiasi sul fantacalcio ovviamente potete farcele non fantaconsigli ancora è troppo presto domani e dopodomani andremo poi di fantaconsigli con questo è veramente tutto ciao ragazzi